Il lattosio è un tipo particolare di zucchero presente, oltre che nel latte, anche in altri alimenti di origine lattiero-casearia. Normalmente il lattosio viene scomposto nell'intestino tenue dove l'enzima lattasi scinde il lattosio in glucosio e galattosio, in modo che possa essere assorbito dalla parete intestinale. Alcune persone non riescono a digerire bene il lattosio perché non producono una quantità sufficiente dell'enzima lattasi nell'intestino tenue. Per questo motivo il lattosio non viene scisso e non può essere assorbito dalla parete intestinale. Se il lattosio non viene digerito nell'intestino tenue, finisce nell'intestino crasso. Quando il lattosio entra nel colon, può provocare lo sviluppo di gas nell'addome. Ma fortunatamente ci sono modi per ridurre questo rischio di sviluppo di gas nello stomaco provocato dal lattosio. Per esempio, per le persone che hanno difficoltà a digerire il lattosio, gli integratori contenenti l'enzima lattasi possono aiutarle a digerirlo. Assumendo un integratore di enzima lattasi insieme a un pasto contenente lattosio, si ottiene una quantità di lattasi sufficiente nell'intestino tenue per scindere il lattosio del pasto. Questo permette al lattosio di essere assorbito normalmente nell'intestino tenue anche in persone che hanno difficoltà a digerire il lattosio. Gli integratori di lattasi sono disponibili in capsule, compresse e gocce. Per maggiori informazioni, contatta uno dei nutrizionisti specializzati in intolleranze. Grazie a tutti.